C'è il nuovo orario di Trenitalia per quanto riguarda i trasporti nella nostra regione, Feder Consumatori, nuove delle critiche per quanto riguarda il nuovo servizio, i nuovi orari. Avete rilevato delle criticità, quali in particolare? Decisamente sì. La prima più evidente è che da sei collegamenti Pescara-Roma ne sono diventati soltanto tre, l'ultimo dei quali parte alle 9.23 la mattina. Dalle 9.23 la mattina alla sera da Pescara-Roma non c'è più un treno. Questa mi sembra la prima più evidente. La seconda, che potrebbe avere un peso ancora superiore, il fatto che a Pescara abbiano creato un hub, avrà la sua razionalità l'hub. Però cosa comporta? Che il servizio metropolitano, Terra Mocchieti, che tanta buona prova di sé stava dando recentemente, costringerà i cittadini a scendere a Pescara Centrale e prendere un altro treno per continuare il viaggio. Noi speravamo tantissimo che la famosa Freccia Rossa, che collega la Lombardia anche all'Abruzzo per poi andare verso le Puglie, noi pensavamo che avessero finalmente capito che l'orario andava invertito. La mattina di andare verso il nord, passare qui verso le 6, le 7 alla mattina per andare a Milano, che è l'unico caso che collega a Pescara-Roma in quattro ore, e poi la sera tornare. E invece fa esattamente il contrario. Per cui è come se servisse i milanesi e noi gli abruzzesi. Per quanto riguarda l'Adriatica chiediamo che ci siano più materiali ETR che possono essere utili per realizzare le frecce rosse, per cui tutti i collegamenti Pescara-Milano si possono realizzare in quattro ore anziché cinque ore e venti come attualmente. Sulla Pescara-Roma chiediamo che vengano fatte operazioni d'altra natura. La cosa più importante è che debba esistere un collegamento Pescara-Roma senza fermati intermedi. Potremmo in due ore e 48 minuti collegare Pescara-Roma. Grazie. Grazie.